Salve a tutti per la ragazza e benvenuti in questo nuovo video! Oggi faccio un video con il cane e petaloso Papari, vieni Papari, Papari vieni qua, lei è Papari, lei è Papari, lei è Papari, lei è Paparina? Guardate come guarda, ora guardate come fa questa cake, è molto affettuosa, vedete, vedete ve la faccio vedere da vicino, ciao, 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 come va tutta a posta? Non so, vedete che bellina Papari, vero Papari. Vedete Papari, ora la metto qui, guardate come guarda, miura, miura, seduta, seduta. non è lì non è lì prima stava guardate 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 questo è il cucciolo preferito di Babel guardate 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 e non lo molla ferma, calma, calma allora qui sono bella raga vi ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi, siete più attivi mi raccomando iscrivetevi al canale ciao mazzola ciao mazzola eh vabbè aspetta mazzola di iscriviti al canale ciao a tutti bella raga alla prossima video ciao 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 ciao